VUCA 11 PAR 4 HANDICAP 14 PAR 4 non molto lungo e delicato, che misura 340 metri dal back T dei professionisti e 314 metri dal T giallo. Richiede attenzione dal T per la presenza in successione di ostacolo d'acqua frontale e laterale a destra, in mezzo agli alberi. Bunker a destra a 130 metri dal green e RAF spesso folto a sinistra del fairway. Piazzare un buon drive in mezzo al fairway consente un secondo colpo agevole, infatti l'attacco al green, molto largo e lungo pochi passi nella sua parte centrale appena dietro ai bunker che lo difendono frontalmente, impone grandissima precisione nell'approccio anche per evitare l'ostacolo d'acqua posteriore al green. Importante l'attenzione da prestare all'acqua laterale lungo tutta la buca destra e il fuorilimite oltre la strada laterale di sinistra, con free drop nelle apposite aree, nel caso la palla rimanga sul sentiero in prossimità del green.